Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo a Silvelle al campionato europeo di Cilocross e abbiamo chiesto ai corridori quale tipo di fondo preferiscono durante le loro gare. Quale tipo di gara o terreno preferisci a Cilocross? Ma i miei terreni preferiti sono quelli fangosi ma dove si può stare ancora sulla bicicletta e spingere sui piedali. Ma diciamo che mi piace molto correre a piedi, però dai domani ci sarà molto fango e appunto dai speriamo. Andrà bene allora per domani. Speriamo. Sven, quale tipo di superficie preferisci quando ero un gara? Beh, questo dipende dalla mia age, ovviamente, perché quando ero un gara un gara, mi piace molto correre, più esplosivi, più tecniche. Ma per l'ultimo, per me è meglio di avere un gara come questo, con molta mud, perché ho usato con la mia esperienza e anche la mia potenza. E non avevo la potenza in l'inizio quando ero un gara. Quindi è cambiato durante la mia carriera. Normalmente mi piace la scena la più, ma anche la mud. Mi preferisco la mud. Sì. Mi piace. Non è così mudda come è ora, magari un po' più, ma è così. Ma la raccoglia è come è. E credo che avremo un giocatore oggi. Quale tipo di superficie preferisci una gara di Cilocross? Beh, dipende. Cioè, a me il fango sinceramente piace tanto. Questo era un fango abbastanza colloso, però di solito a me piace il fango. Sì, vado meglio sul fango. Ma per me direi che la superficie migliore è il fango. Specialmente quello liquido che attacca di meno, però è un po' scivoloso. È la cosa che mi piace di più. Condizioni sicuramente fangose e un fango da guidare più che altro, sì, ecco. Non come oggi. Non proprio come oggi, però dai, piuttosto che super asciutto, mi è piaciuto anche correre oggi. Allora, quando correvo fango, adesso bordo percorso. Alessandro, quale terreno preferisci nella gara di Cilocross? Asfalto? Sicuramente il fango. Sicuramente il fango. Il fango è anche speciale, ma sicuramente il fango è bene per me, sì. È una combinazione di tutto. Sì, è più divertente. Il fango, ma non come questo. È un po' più humane, ma questo sarà anche divertente. A me piace molto il fango, anche se comunque l'asciutto mi va bene, però preferisco il fango. Ma di solito mi piace il fango. Oggi, adesso, bisogna vedere quanto si riesce a fare in bici e quanto bisogna correre. Io spero che si riesce a fare tanto in bici, comunque sicuramente verrà fuori una gara molto dura. Bene, abbiamo visto che da buoni crossisti quasi tutti preferiscono il fango. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, come sempre mettete un bel like. Qui potete trovare un altro video, qui invece potete dare un occhio allo shopping online. Ciao, alla prossima!